Senti, vorrei dire qualcosa, vado a fare. Io posso fare una roba a chi? Ce la vuoi, carina? No, non ho mai. Alla salumeria esce, strada a sinistra su chi è a destra. Sinistra a destra? Sì, c'è la salumeria di Paolo e Maurizio. Come te lo faccio? Manfredi, ti fanno lui il buono come vuole. Deve rimanciare loro? Sì, va bene. Grazie a tutti.